Ciao a tutti ragazzi, sono Alohaloa e oggi volevo fare la recensione di Kenshin Samurai Vagabondo, uno dei più grandi successi degli anni 90 di Shonen Jump di Nobuhiro Watsuki, edito in Italia da Star Comics al prezzo di 3,90€ composto in totale da 28 volumi. La serie è ambientata a metà dell'Ottocento in Giappone e il protagonista è l'assassino Battosai Mura che, dopo aver partecipato a un'importante rivoluzione per la caduta dell'impero shogunato, decide di far perdere le tracce di sé e di diventare appunto il samurai vagabondo denominato Kenshin. Il vagabondaggio di Kenshin è caratterizzato dal solido ideale di non uccidere più nessuno anche perché viaggia con una spada a lama invertita che appunto non può uccidere nessuno. Dopo aver parlato un po' della storia mi soffermerei sulle mie considerazioni che sono per lo più positive, visto che a mio parere questo manga ha principalmente tutto a suo favore e davvero poche cose a suo sfavore. Prima di tutto la storia. La storia infatti è molto interessante e si sviluppa molto bene, soprattutto non è mai noiosa, non ha cali particolari e mai è pesante anche quando si sofferma sui dettagli, diciamo, della politica del Giappone o della storia appunto del Giappone di quegli anni. La serie gode di un buon ritmo e non ci sono, come ho detto prima, cali particolari. Secondo me è molto scorrevole e soprattutto il ritmo è sostenuto da un'ottima caratterizzazione dei personaggi. Appunto, la caratterizzazione dei personaggi è forse la cosa che io ho apprezzato di più, in particolar modo il protagonista Kenshin. Però c'è da fare un discorso più generale, ovvero che quasi tutti i personaggi, in particolar modo i protagonisti, vengono approfonditi per tutta la durata della serie e quindi noi non conosceremo mai a sufficienza i personaggi fino a che non avremo completato la serie. Il tratto dell'autore è chiaramente adatto al tipo di opera e c'è da dire che magari potrebbe ricordare quello di Oda più che altro perché appunto Oda è stato allievo di Watsuki insieme anche a Takei, autore di Shaman King e quindi il tratto mi è piaciuto molto, è molto sporco a volte, comunque appunto adatto al tipo di manga. Consiglio quindi di leggere la serie ma non di recuperarla ora con questa edizione sia perché comunque non si trova facilmente, nel senso è ordinabile e tutto il resto, però se entrate in fumetteria non troverete più di 5 volumi messi a caso. Consiglio invece di aspettare un'eventuale ristampa, magari Perfect Edition sia perché sarà composta diciamo da meno volumi ma soprattutto appunto perché sarà più facile da recuperare. Con questo ho detto tutto, vi rimando al prossimo video e alohaloha!